Si aprono le gabbie, parti! Cavalli, tra la quarta corsa del pomeriggio, Indigo è il più veloce, si trascina all'altro peso basso, Bridge, Secret Man, poi dietro a questi la storia continua, Elbe, percorsie larghe, anche Reina o Lolaesa che cerca una schiena, vorrebbe trovare Inacheso o forse Eranild, ma che non trova. All'interno troviamo anche Leondina, poi Distant, ancora più all'esterno la giuba verde, quella di The Grower, con Elbe che chiude il gruppo dei partecipanti, insieme peraltro alla stessa Dea Giulia. Si procede così con i 15 partecipanti, dal primo all'ultimo circa 10 lunghezze, adesso Bridge, Secret Man ha preso in mano la situazione passando in vantaggio, trascinandosi a Keso che è il favorito. La terza posizione occupata da Indigo, la quarta da Eranild, poi ancora Distant, alle cui spalle galoppa anche Policasta, dietro a questi ci sono Reina o Lolaesa, al cui interno c'è Leondina, Conte Attilio e tutto il resto del gruppo. Siamo già velocemente in dirittura d'arrivo, con Bridge, Secret Man che l'ha presa piuttosto allegra. Il gruppo è sfilacciato, ma a Keso si è posizionato proprio vicino alla testa. Ci prova Indigo, ci prova Leondina che si avvicina a percorsi interne, all'esterno c'è Distant, poi Reina o Lolaesa, Policasta. La storia continua, Elbe, Stolen Glory, tutto l'ampio ventaglione, 450 dal traguardo, a Keso è passato in vantaggio, anticipando lo sforzo, si avvicinano percorsi esterne Distant, Policasta, Reina o Lolaesa e Conte Attilio, che però è lontanissimo. A Keso ha preso tutti in contropiete, Leondina si lancia all'inseguimento, trovando un ottimo varco all'interno. All'esterno c'è anche Conte Attilio, nel tratto conclusivo però, a Keso, ha fatto bene i conti, senza alcun tipo di problema. Secondo posto per la storia continua, Leondina, poi Distant e Conte Attilio a completare il marcatore dei primi cinque. A Keso e Nicola Pinna, che colpiscono per la Endo Bottigaloppe i colori della Weeblotstock. 9 al primo posto per Akeso, vittoria numero 1 in carriera, figlio di Cracksman, che finalmente al settimo tentativo conquista la prima vittoria in carriera. Direi eccellente interpretazione del giocai labronico, Lecola Pinna, che si è posizionato proprio immediatamente alle spalle dei primi e ha fatto valere la carta del lungo anticipo, 9 al primo posto, per il secondo il 3 e poi all'interno numero 1. 9-3-1, l'ordine d'arrivo ufficioso, probabile, della quarta da Capanella. Grazie a tutti. Grazie a tutti.